L'onorevole Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, ieri a Taranto per parlare di riconversione economica del territorio e per sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Nevoli del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative dell'11 giugno. Ci sono tutte le competenze e le possibilità per far provare a far risorgere questa città, ha detto il pentastellato. Qui c'è bisogno di persone serie, che facciano le cose per bene, che dicano anche qual è il cronoprogramma per arrivare a questi obiettivi, perché la questione Taranto la si è sempre voluta risolvere con un decreto. In caso di elezione di Nevoli, i 5 Stelle, appena entrati al Comune, apriranno i bilanci per capire dove siano finiti i soldi delle tasse pagate dai cittadini e taglierà tutte le spese inutili, innanzitutto quelle voci relative a privilegi o favori, fatti a qualcuno. Grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari 5 Stelle, ha detto Di Maio, in Puglia sono nate 302 nuove imprese, 5.300 imprese in tutta Italia, facendo nascere 10.000 posti di lavoro. Questo esempio dovrebbe essere adottato da tutta la politica italiana. La promessa che avevo fatto alla Puglia nel 2015, e cioè che con il taglio degli stipendi avremmo fatto nascere nuove imprese, è stata mantenuta. In Puglia sono nate 300 nuove imprese grazie agli stipendi tagliati ai parlamentari dal 2015 ad oggi. Allo stesso modo possiamo fare per le città pugliesi, in particolare Taranto, un sindaco che taglia quello che non serve e investe dove serve. E questo è un obiettivo che abbiamo in tutte le città che governiamo, ma in particolare in una città come Taranto, dove apriremo i bilanci, taglieremo tutti gli sprechi, i privilegi di questi anni, ridurremo i buchi di bilancio, e quindi i debiti, ma soprattutto faremo investimenti nelle priorità delle persone. In queste elezioni noi ci proponiamo con un sindaco per cambiare questa città. È chiaro anche però che la questione ILVA, la questione ambientale e salute, dovrà essere necessariamente coadiuvata dal governo. E per questo abbiamo un duplice obiettivo. Abbiamo le comunali l'11 giugno, speriamo il ballottaggio il 25 giugno, giugno e poi tra dieci mesi abbiamo le elezioni politiche, speriamo di poter avere un governo 5 stelle che aiuti il sindaco 5 stelle di Taranto a cambiare questa città, perché è chiaro che la sfida di Taranto si gioca a livello nazionale con risorse nazionali, ma soprattutto mettendo al centro delle politiche la persona e la sua salute. In questi anni si sono messi al centro delle politiche pubbliche su Taranto soltanto i finanziatori delle campagne elettorali. I fratelli Riva avevano finanziato la campagna elettorale sia del PD che del centro-destra, e infatti si sono fatti i decreti per aiutare il management di questa azienda e non i cittadini di Taranto. Quando si dovevano stanziare qualche decina di milioni di euro per il reparto di pediatria dell'ospedale di questa città, dissero che non c'erano più soldi e poi hanno messo dopo pochi mesi 20 miliardi di euro a garanzia per le banche. Entro il 2025 il 60% dei lavori così come li conosciamo oggi sparirà, ha detto ancora Di Maio. Il 50% dei lavori sarà creativo, il che si traduce in tecnologie, turismo, beni culturali, made in Italy design ed agroalimentare.